Per le piccole e grandi esigenze di casa, per tutte le stagioni, per chi va a scuola, per chi cerca un'idea regalo. Euroshop di Emilio Vadalà, il più grande assortimento di articoli che potete immaginare ai prezzi più convenienti. Detersivi anche alla spina, articoli per la casa e la persona, articoli scolastici, idee regalo, articoli stagionali, la più assortita oggettistica. Tutto con un occhio al prezzo, il più basso possibile. Euroshop di Emilio Vadalà, è rivenditore autorizzato Butangas GPL in bombole. Euroshop di Emilio Vadalà, via Tenente Minicucci 72 Melito Porto Salvo, telefono 0965 78 12 61. Ci trovi tutto quello che ti serve. Facci un salto!